ora quando io a giugno ho avuto l'illuminazione e ho scritto il mio white paper non sapevo che esisteva già winding tree che l'ho scoperto da antonio e mi pare che siano svizzeri loro poi queste icono sai mai da dove sono sono un po e loro fanno è tutto russo winding tree il fondatore sta in silicon valley ok winding tree cosa fa è una dao vuole essere una dao che fa il software per tutta l'industria del turismo quindi non per fare il vacation rental alberghi aerei tour operator tutto il software per decentralizzare l'industria del turismo hanno posticipato l'ico dovevano farla dicembre e l'hanno fatta invece oggi è partita poi ve lo faccio vedere lock chain quando si legge il chain è una scoperta un mese dopo è una ditta di soffia dove abito io che ha fatto l'airbnb e il booking del centralizzato cioè sia appartamenti che alberghi ha fatto l'ico a dicembre e ha raccolto circa 5 milioni di dollari che però questa è interessante ecco altra cosa che mi manda fuori testa voi no però date un po fuori di testa con me allora questo qua hanno preso in ethereum perché tu dai ethereum l'ico e ti danno i loro i loro coin che non valgono niente loro si chiamano lock i coin hanno preso circa 9 mila ethereum cioè 5 milioni di dollari in ethereum ma l'ethereum valeva 250 euro poi è arrivato a mille euro quindi quei 5 milioni sono diventati 20 milioni di colpo non solo loro hanno emesso un certo numero di lock questi lock sono andati sul mercato devo far vedere se no facciamo così no no faccio direttamente guarda browser allora il lock va sul mercato forse crypto compare va sul mercato e la gente comincia a comprare e vendere questi lock eccolo qua e acquisisce un valore il valore iniziale era circa all'epoca 20 centesimi di euro adesso è calato moltissimo questi giorni evidentemente no non è questo lock qua scusate è un altro lock ho preso paura è crollato adesso sta calcolando tutti questi giorni quindi ok in realtà il lock è uscito a 13 adesso 14 quindi è tornato all'inizio però vale un dollaro e 60 ne hanno altri 10 milioni quindi sono altri 16 milioni e sui calcoli non li so fare quindi questi questi ragazzi ragazzini poi insomma ragazzi hanno 30 anni così li ho conosciuti ci ho parlato varie volte sono hanno decine di milioni di dollari di euro da utilizzare per fare la alternativa a booking ce la faranno non ce la faranno non lo so ma c'hanno soldi almeno quella cosa lì è risolta ok attenzione perché se questo lock mi va a 10 dollari fatemi il calcolo ok per farvi vedere un po il valore del lock nei mesi perché adesso sta tutto un po calando per colpa del tg5 allora qui è rimasto sempre più o meno uguale con l'etereum che è salito anche rispetto all'etereum ma l'etereum è quadruplicato in questi mesi rispetto ai dollari vediamo se ce l'abbiamo ah no ma qua è perché va bene non arrivo all'inizio perché non sono logato è arrivato a 3 dollari ok quindi già loro in testa avevano loro scopertano in testa quanti soldi hanno ok ora qual è dove guadagna lock chain non vende niente ci fa il software gratis il software di lock chain è gratis il loro marketplace il loro piccolo Airbnb che è in versione alfa è gratis non prendono commissioni perché non prendono commissioni perché se usiamo il loro software il valore del token va su il loro interesse l'interesse di tutte le ICO è che vada su il valore del token non vendono niente ci danno tutto gratis che non è gratis in realtà perché qualcuno bene o male poi li compra tu devi comprare i lock per prenotare l'appartamento con il rischio che magari vada giù però per farvi capire non sono più ditte che fanno prodotti da vendere sono ditte che fanno prodotti gratuiti e guadagnano sul token una delle funzioni proprietà del token è questa che nelle azioni non c'è e tu mi avevi detto invece che era un gettone ok vedi che è una proprietà diversa che non mi pare non trovo un'analogia nel mercato diciamo classico un bel un bel un bel che un bel Grazie a tutti.